La ricetta di oggi è quella delle polpette ricotta e zucchine. Per preparare 20 polpette vi occorrono 300 g di patate, 250 g di ricotta, 250 g di zucchine, olio extravergine di oliva, sale, pepe e menta se volete. Per la preparazione, lavate le patate e mettetele in una pentola con acqua fredda. Ponete sul fuoco e lasciate cuocere per una ventina di minuti circa, dipende dalla grandezza delle patate. Tagliate le zucchine a cubetti e fatele cuocere in poco olio con un po' di sale, a fuoco medio, rigirando spesso. Cuocete per circa 10 minuti. In una ciotola mescolate patate e ricotta setacciate. Aggiungete sale, pepe e le zucchine e se vi piace la menta tritata. Formate le vostre polpette e mettetele in una teglia rivestita di carta da forno. Spennellatele con un po' d'olio. Cuocete in forno preriscaldato ventilato a 200 gradi per circa 10 minuti. Dovrà non solo odorarsi perché in realtà tutti gli ingredienti sono già cotti. Servite le vostre polpette di ricotta e zucchine. Puoi rileggere le ricette della rubrica Buon Appetito sul sito www.ondatv.tv Buon Appetito sul sito www.ondatv.tv